Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale Ale, eccoci qui con il nostro Morecambe Fishing Club siamo di nuovo qui in campionato con il nostro Ermene Gildo Braciolone, dobbiamo giocare una partita contro il Southend che abbiamo appena affrontato in Coppa vincendo 1-0 tra l'altro quindi è una lotta qui tra gamberetti, proviamo ad andare a giocare tra l'altro vi dico che ho provato a fare qualche offerta per qualche attaccante che ho trovato svincolato però sto vedendo un po' perché purtroppo Tuso Pala ragazzi non riusciamo ad incangiarlo perché vuole troppi soldi le finanze non ce le abbiamo, ho provato a fare richiesta le altre volte adesso possiamo anche riprovare ma non ci danno moneta, non ci danno niente, a noi ci basterebbe veramente poco forse anche un... il problema è che questi ce li danno per i trasferimenti quindi noi poi questi li dobbiamo modificare per andare a fare il coso quindi almeno 50.000 e aumentiamo, termina in alta classifica lotta per la promozione, conquista la promozione diretta io ti dico che vado per la promozione diretta gli ottavi, i quarti, i sedici, i quarti e ti... arrivo ai quarti però mi devi dare 100.000 dai, 100.000 portacci tua dai 100.000 euro, non è che stiamo chiedendo tanto su via, per tutta la promozione diretta cioè quando mai l'avete vista dai, datemi sti soldi e non fai dei taccani che i gamberetti vanno forte e andiamo in partita subito allora cerchiamo di vincere di nuovo questi vogliono vendicarsi ma noi saremo cazzuti e cattivi adesso Ketri dovrebbe essere il nostro bomber indiano dovrebbe essere un po' ripreso attenzione perché McGowan che è quello che scattava lì sulla fascia non sta benissimo però forse possiamo metterci dov'è l'altro? aspettate, momenti di... non mi ricordo mai i nomi ecco perché eh no, Mouazil stava qui ma anche lui è un po' acciaccato però vabbè, magari li lasciamo così e poi li invertiamo facciamo... è una sostituzione già segnata magari questo qui lo sostituiamo subito con... c'è qualcuno che non stia morendo? no vabbè sti cazzi allora dai, va bene così ragazzi va bene così oppure ci possiamo mettere questo come sei tu in difesa? riflessi dai, prova a andare in difesa tanto noi qua gli schemi noi cambiamo tutto ragazzi come vedete un terzino sulla fascia va veloce, va veloce ce lo mettiamo vai così ci proviamo, ci proviamo dobbiamo assolutamente conquistare a parte la promozione diretta come detto poi dobbiamo cercare di fare più più strada possibile poi come detto ragazzi io vi ripeto questi video li continuerò a fare fin quando fin quando saranno seguiti perché come detto non... cioè devono essere seguiti da un bel po' di persone magari aspetterò che l'ultimo video venga visto da un po' di persone per vedere se proseguire o meno perché come detto FIFA non è una priorità sul canale può essere bello divertente però per dirti potete vederlo ovunque FIFA quindi preferisco fare giochi un po' più particolari attenzione scatto scatto ci prova attenzione mamma mia subito subito ma chi è quello che si è appisolato in area ma dai cazzo abbiamo fatto una un'azione sportiveggiante attenzione quindi FIFA continuerà fin quando sarà seguita da un bel po' di persone come dicevo all'inizio sarò più severo rispetto alle altre serie perché ci sono alcune serie a cui ci tengo particolarmente le porterò avanti anche se saranno un po' meno seguite rispetto ad altre però FIFA visto che appunto non è che sia una un gioco così da mostrare per far attenzione caputtana magari non troverete il nostro moregame fishing club però come detto questo è per farci due risate così ogni tanto però ci sono giochi che meritano il risalto quindi questo lo continuo a fare solo se viene attenzione ma paffanculo mamma porca mignotta maledizione maledizione subito subito allora offensiva abbiamo rischiato di fare gol come si dice gol sbagliato gol subito mortacci vostra questa è una cosa che ci aggiungiamo noi nel finale guarda guarda quelli che si incrociano ma porca puttana attenzione attenzione non possiamo non era fallo era un un appoggio amichevole non possiamo farci fregare da questi gamberetti che non sono ufficiali attenzione portiere subito subito che tanto non c'è nessuno tanto uguale attenzione 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 red show red show ruba palla dalla cat ma che cazzo è la palla deve portare giovane attenzione catri il bomber il bomber indiano se ne va ci prova si insinua e lo fermano è giusto così ci ha provato un po' troppo attenzione catri di nuovo dalla palla ma è baffanculo un po' più di forza catri ti sei riposato l'ultima partita e cazzo e dai lo so che stanotte sei andato magari a pescare però questo non ti giustifica tutti quanti vanno a pescare qua tu se vuoi essere il bomber devi devi comportarti in modo adeguato cioè minimo devi segnare sempre minimo eh poi porca mignotta non è che ci segni una tripletta e ti sei assicurato il posto qua se fallisci siamo pronti a buttarti da dalla barca nel vero senso della parola in questo caso attenzione questo secondo me lo sapete perché perché un po' di termini marinareschi non li stiamo usando benissimo quindi poi nella sembrava fallo ma si eh no non era fallo eh scusa attenzione subito così subito da sta cazzo di palla vai così e fallo scattare lo cazzo scatta sulla fascia devi scattare devi andare a crossare mortacci tua attenzione ci prova ci prova eccolo lì non va non va partita difficilissima questa lotta tra tra gamberi red show marshal attenzione catri il bomber il bomber ci prova ma proprio non c'ha la forza per insinuarsi non c'ha quel quello scatto felino che ci serve in accelerazione per per potersi insinuare quindi è un po' un po' difficile la situazione dobbiamo studiare bene i punti deboli di questa squadra che noi comunque nell'altra partita abbiamo battuto con un calcio piazzato quindi diciamo che non è che è stato semplicissimo ma porca mignotta maledizione la rinincita dei gamberi farlocchi maledizione ma che riposarsi noi gli abbiamo fatto fare flessioni gli abbiamo fatto mangiare una frittura di pesce e via subito in campo che ti riposi poi perdi perdi il magic moment così attenzione è il problema vedete che poi non c'hanno quel tocco e dai e vai dai e vai e vai e dai attenzione scatta Ketri Ketri cioè proprio non gliela fa non gliela fa bastardo che non sei altro secondo me non era lui all'altra partita che ha fatto quella triplet io l'avevo detto secondo me non era lui maledizione c'è sotto minacce si è Ketri te lo dico un'altra volta qua la prima partita che che cose ti mandò ti rimpatri quindi ti ha regolata niente dobbiamo minacciarlo più ti rimpatrio subito subito ti mando attenzione attenzione ci prova niente non va eh perché qua è difficile cioè passaggi non si sa fare quindi maledizione attenzione rischio rischio subito subito mcgowan mcgowan se ne va se ne va ci prova ci prova dai scattofelino scattofelino che cazzo guarda oh arbitro questo mi si è attaccato alla maglietta sto figlio di troia ma vaffanculo va ma che cazzo è come un moscerino sul parabrezza mi si è rappiccicato bastardi questi so so farlochi noi siamo andati a pescare voi non siete nessuno voi non siete veri marinai maledizione vai così subito subito dalla lì ma che cazzo ma ci avete i piedi a banana ci avete ci avete i piedi a banana e dammi la palla cazzo ma che cazzo è il vantaggio un quarto d'ora dura questi figli di troia attenzione difficoltà difficoltà e ti spezzo le gambe allora ti spezzo le gambe facciamo così vai così non va non va red show non va ma che si spintonano tua nonna si spintona attenzione cioè vedete non c'hanno proprio il fisico puttana droia dai una spallata se ne tornano a casa questi che cazzo e dai così però devi scattare che cazzo fai ti rimando a cuocere i ravioli a vapore te l'avevo detto e lo faccio non è perché hai segnato una tripletta stai tranquillo porca mignotta attenzione rischio quella era fallo così gioco duro gioco duro per me va bene per me va benissimo dalla lì dalla lì scatta red show scatta scatta bene scatta bene e dietro il cross cazzo ma che cazzo fai cambia tutto cambia tutto attenzione c'è bisogno di aria nuova ma go one vaffanculo va dove sta ma wazil va benissimo canyon non lo so dai ma non è lui non è lui dov'è canyon dai con questa faccia dove vogliamo andare per favore ellison vabbè dai togliamo ellison mettiamo canyon il nostro portafortuna flemming così e ci proviamo di nuovo cambia tutto ultra offensiva voglio quel giocatore segna di nome andava bomba attenzione attacco ultra offensivo ma non sortisce effetti a quanto pare siamo ancora in difficoltà all'ottantatresimo bruttissima partita questa ma go one non va non va attenzione niente questa partita clifford proprio si è messa male sin dall'inizio eravamo partiti quasi con un'ottima azione inizialmente poi la fatica della nottata di pesca si è iniziata a far sentire quindi qua dobbiamo un attimo dalla su ma che cazzo fai ma almeno la direzionalità maledizione ci avevi di lato dove cazzo la dai la palla porca mignotta cambia tutto così vai là ma che cazzo è finita ma vaffanculo va eh si sono riusciti a vendicare sti fottuti gamberetti maledizione ultima giornata di mercato attenzione ce la giochiamo così migliori offerte attenzione tiago silva quasi il manchester per la bellezza di 30 milioni l'inter tenta di comprare manzurik contratto rifiutato da parte di daniel durante e sti cazzi non ce lo metti eh mica patroken accetta o rifiuta il contratto attenzione lui vuole venire vi faccio vedere un attimo aspettate come cazzo faccio no vabbè lo compriamo sti cazzi tanto per 3 mila ragazzi come hai detto quell'altro non viene non abbiamo possibilità di non abbiamo ricevuto offerte per vendere qualche barbone ok dai ci compriamo questo eh com'è che si chiama mica patronen nome una garanzia vai vieni nuovo acquisto e anche questo vuole accettare mica e vargas patronen e vargas una nuova coppia di attacco eccoli qui vediamoli subito patronen e vargas vargas eccolo qui attenzione come vedete non era malaccio eh patronen un po' meno però ha cioè comunque non è male soprattutto andando a vedere che ha se mi dai il coso ah no dobbiamo fare sono cosi che ha 17 anni questo ce n'ha 21 però sono giovani ragazzi sono abbastanza buoni a parametro zero diciamo che possono andare avanti per un po' soprattutto calcolando che qui samson è buono di testa però non va non va molto questo 25 anni però abbiamo visto che non è molto nonostante le caratteristiche sembrassero buone però sembra faccia cagare e soprattutto questi poi magari li possiamo utilizzare anche in altre posizioni perché come detto noi non è che stiamo a guardare il capello questo di elevazione è 64 quindi potrebbe essere una una buona cioè 1.80 comunque potrebbe essere un buon attaccante per quanto riguarda il nostro gioco aereo questo 1.89 quindi anche lui molto alto viene dalla un finlandese e un boliviano quindi hanno una grandissima cultura del calcio proprio bomber di razza ma va bene quindi questi due Vargas e Patronen sono giocatori di testa molto molto forti magari li proveremo nella prossima partita ragazzi noi ci vediamo quindi con il prossimo video con il nostro Morecambe Fishing Club purtroppo veniamo da una sconfitta con un'altra squadraccia e vabbè io qui finisco la giornata tanto comunque non abbiamo più soldi da investire io vi ringrazio per aver seguito questo video ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento vediamo in ufficio chi è che ci sta contattando offerta per il trasferimento John MacG aspettate voglio andare a vedere chi è questo MacG Pedro Vargas offerta accettata si è già venuto si è già trasferito MacG aspettate rimaniamo qui per fare un po' di calciomercato MacG chi è? chi è? perché i nomi non me li ricorderò mai dov'è MacG? è questo qui? eh oddio non era malaccio in realtà cioè comunque è una buona riserva adesso solo se ci offro un bel po' se no me lo tengo il signor MacG qua poi a gennaio vediamo cosa cosa fare perché vale 30.000 è felice ci offre 30.000 io voglio di più perché secondo me questo potenzialmente è un bomber non è vero però vediamo se ci danno 50.000 o mica li buttiamo via e e andiamo un po' avanti vediamo se succede qualcosa in questi ultimi minuti di mercato attenzione ufficio credo sarà rifiutata a pressione Bohemians chi è questo? abbiamo rifletto sulla C ma purtroppo è più di quanto siamo disposti ci offrono 35.000 attenzione ma se noi sti 35.000 sapete qual è il fatto? che se poi li rinvestiamo nel ci provo ragazzi ci provo 1.700 però 38.000 no non anche se aumentiamo un po' gli stipendi comunque non arriviamo al ma sti cazzi vai 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 tranquillo MacG vatta divertiva attenzione quindi quanta moneta abbiamo sicuramente Tuso Pala non riusciremo più ad ingaggiarlo perché ah tra l'altro non ci hanno mica risposto questi bastardi per i fondi aspetta andiamo un attimo un'altra giornata facciamo passaggio un'altra giornata un altro minutino giocatore venduto va benissimo va bene va bene ok andiamo a vedere nel caso andassimo a modificare quei fondi a quanto arriviamo di eh se 2.000 e qua ci vogliono miliardi di donne anche se ci da 100.000 lo staff comunque riusciamo ad arrivare a agli stipendi giusti no vabbè gli stipendi purtroppo quelli sono se non riusciamo a venderci qualche parecchi giocatori in realtà non non riusciamo a fare molto niente ragazzi quindi credo finisca così a meno che non arriva qualche altra offertona clamorosa offerta per il trasferimento Andy Parrish attenzione andiamo a vedere chi è questo Parrish credo sia uno che tra l'altro l'avevo messo in vendita andiamo a vedere un attimo dov'è Parrish Parrish dov'è Parrish questo qui è un terzino destro e oddio non è che era di cinque anni diciamo che in difesa non è che stiamo benissimo quindi se ci offre parecchio va bene perché se no poi soffriamo inutilmente quanto ci offrono per Parrish 80.000 porca mignotta è contro offerta secondo me è un bomber è un bomber 100.000 e stiamo pace anche se poi comunque non riusciamo ad investire perché non abbiamo non è finito a meno che non facciamo aspettate no vabbè vai così offerta trasferimento niente 80.000 di nuovo che in realtà non sarebbero male ragazzi vale 70.000 accettiamo l'offerta accetto accetto dai accettiamo via attenzione attenzione se poi questi fottuti della dirigenza ci avessero dato quei soldi maledizione noi adesso potevamo fare forse qualcosina perché se ci avevamo eh no ancora vabbè data così ragazzi adesso vediamo se ufficio richiesta abbiamo esaminato ma al momento riteniamoci ancora presto ma vaffanculo va l'ultimo giorno di mercato si è concluso il giocatore venduto perfetto adesso andiamo in gestione squadra quei due che abbiamo tolto ci mettiamo i nostri nuovi acquisti Fleming Hammond Hammond secondo me te ne puoi anche andare cioè non è per sfiducia però Woods anche un po' scarsino noi abbiamo comprato Patronen siamo al posto di Hammond e Vargas che sarà titolare Vargas magari al posto di aspettate che no aspettate fatemi vedere quale tra questi è possibile mettere in panchina Samson come detto forza però per il resto Canyon dai che cos'è che cos'è questo è scarsissimo che cazzo vabbè che è un difensore quindi ci servirebbero un po' di difensori però levami questo mettimici Vargas e Red Show era quello che avevamo in attacco perché in teoria doveva andare veloce ma questo non va da nessuna parte ragazzi questo ce lo teniamo per la fascia facciamo così questo è come Wasil un altro per la fascia quindi Vargas nella prossima partita sarà titolare insieme a Catri questo lo mettiamo sulla fascia Red Show vedremo se sarà velocità scatto il problema è che l'accelerazione non è tanto equilibrio va bene comunque noi ragazzi ci vediamo con il prossimo video siamo andati un po' oltre qui però c'era l'ultima fase di mercato che era importantissima noi ci vediamo con il prossimo appuntamento un saluto a tutti da quel taleale ok